Antonio Del Vecchio, il Silvi riparte da un nome importante, conosciuto, in panchina ci sarà Fabio Ferraresi, alla sua prima esperienza da capo allenatore. Come mai la scelta appunto di Ferraresi? Noi appena abbiamo saputo che il presente mister Castellano volesse provare altre esperienze, siamo subito messi in modo per cercare dei profili sempre di alta qualità. Ci siamo orientati verso Fabio Ferraresi, l'abbiamo incontrato, l'abbiamo conosciuto e mi ha fatto un'ottima impressione. Si vede che è uno che ha giocato a pallone, che ha avuto esperienze di calcio professionista. Lui dovrà cercare di continuare quel progetto che abbiamo avviato due anni fa, che è quello di creare una squadra mix tra giovani e giocatori esperti. E quindi soprattutto valorizzare alcuni giocatori del settore giovanile. Vi affidate anche un po' all'esperienza dello stesso Ferraresi anche nell'allestimento della squadra? Sicuramente sì, siamo in contatto con lui, con il direttore sportivo Antonello Di Crescenzo, in cui stanno lavorando proprio per cercare di capire quali sono i profili adatti al tipo di squadra che vuole allestire. Siamo convinti che lui riuscirà a portare anche e soprattutto dei giovani per i fuori quota che siano proprio competenti e preparati per la categoria. Circa il serbatoio di giovani del vostro settore giovanile, contate insomma nel fatto che qualcuno possa emergere? Quello sicuramente, ripeto, c'è stato qualche settimana fa, una comunicazione che abbiamo fatto anche sulla nostra pagina Facebook in cui c'era Chiavaroli che ha avuto uno stage fatto presso il Verona Calcio, quindi squadra di Serie A. Quindi cerchiamo sempre di mantenere quanto è più possibile nelle nostre potenzialità il settore giovanile, almeno gli evi giovanissimi, insomma che poi giungono a Juniors e prima squadra. Ecco, notizia di un mese e mezzo fa della gestione del campo Ughetto di Febo che sarà di competenza della Pescara Calcio che si è giudicato il bando. A breve, ci diceva, incontrerà il presidente Sebastiani. Sì, ci siamo sentiti ieri per telefono e a brevissimo nei prossimi giorni fisseremo un incontro, insomma per meglio calibrare un po' la distribuzione degli orari dei giorni nell'ambito di questi impianti sportivi. Ricordo che al momento siamo tre squadre di calcio perché c'è il Pescara vincitrice del bando, siamo noi e c'è la Castro, quindi non è facile cercare di chiudere tutte le caselle per quanto riguarda i giorni e gli orari, però noi siamo predisposti affinché si trovi una soluzione che non danneggi nessuno. Ecco, questo è il nostro obiettivo.